Giucas Casella, noto personaggio televisivo, ha scelto Cefalù come meta per le sue vacanze estive, una località di cui parlava spesso durante la sua partecipazione al grande fratello. Quest'anno, la villa ospita, anche suo figlio, con il piccolo nipotino, offrendo loro l'opportunità di trascorrere del tempo insieme. Giucas, sempre eccentrico e vivace, ne approfitta per condividere momenti di svago, come dei bagni rinfrescanti nel mare locale. È un'occasione preziosa per lui, poiché il nipotino vive lontano e gli incontri sono rari. Nonostante la mancanza di telecamere e riflettori, Giucas mantiene la sua personalità vivace e sopra le righe, dimostrando che è autentico in qualsiasi situazione. La sua passione per Cefalù e il legame familiare si combinano, per creare una vacanza speciale e memorabile per tutti i presenti. Grazie a tutti.